Brutta risavventura per un quarantenne di Castel di Sangro che ieri pomeriggio si trovava nel bosco di Letto Palena quando è stato morso da una vipera, un dito. L'uomo si è recato con il mezzo personale a pronto soccorso del nosocomio di Castel di Sangro dove è stato preso in carico dei sanitari che gli hanno somministrato il siero antivipera. È scattato immediatamente il trasferimento con l'ambulanza del 118 nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Sulmona dove il quarantenne è stato tenuto sotto osservazione, sottoposto a tutti gli accertamenti e le cure del caso. Per evitare complicanze agli organi vitali, il trasferimento e rianimazione è stato un atto dovuto ma rimette al centro dell'attenzione anche l'importanza degli ospedali montani che devono essere attrezzati per gestire ogni evenienza. Da quanto si è appreso l'uomo è fuori pericolo, il quadro clinico non presenta particolari criticità. Un fuori programma bello e buono per il boscaiolo di Castel di Sangro che fortunatamente si è chiuso con il lieto fine grazie anche alla sinergia tra i sanitari dell'ospedale Peligno e quello sangrino.